Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che è troppo... È troppo veloce il countdown qui, quindi devo fare la intro con calma un attimino Bella sta mappa giapponese Però ragazzi, mi vengono i feels in questo momento, quindi devo fare una roba del genere L'award, we were back with another round of Hunger Games Fuck, 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 stiamo già per iniziare e faccio sempre le mie cazzate in inglese Via, 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 via Ma che cazzo, che sta succedendo raga? Che è successo? C'è il server che sta laggando come un suino Comunque sia, non sono io, stranamente non sono io, oggi la mia connessione funziona In ogni caso, c'è Mineplex che lagga un bot, una roba disgustosa oggi Ma l'idea di questo video è nata dal fatto che mi trovo esattamente un giorno prima della partenza Io fra 40 minuti esatti devo essere fuori per andare a fare una prova di guida E non ho ancora registrato video perché sono sempre stato impegnato tantissimo, anche fin troppo E cioè per dirvi, fino a mezz'ora fa io stavo facendo cose Quindi per cui, tu che stai laggando più di me Ammazzo, ok, molto bene E wow, wow, perché questo qui non stava usando le sue armi? O stava laggando pure lui, ma tipo tantissimo Il che è probabile raga, cioè ve lo dicevo che oggi Mineplex lagga un botto Comunque dicevo, essendo che ho 40 minuti, devo registrare praticamente due video Almeno due, perché poi non ho più tempo Perché parto domani e fondamentalmente non posso registrare Perché avrò dietro soltanto il portatile Posso al limite editare, questo sì Difatti mi terrò da parte, cioè mi sto ritenendo da parte un botto di video In realtà questo qua è il secondo Quindi non si può proprio dire che siano tanti Però insomma ci siamo capiti, no? Devo riuscire a fare questo E poi devo anche registrare la survival Mi dicono che ce la farò In qualche modo ce la devo fare raga Spero perché non voglio missare un video Allora, a questo punto Vediamo di concentrarci un attimino sulla partita Una kill l'avevamo fatta ma completamente a caso Il buon uomo lì non è neanche potuto combattere Probabilmente o non mi ha visto o stava laggando talmente tanto Che non riusciva neanche a girarsi tipo quella visuale Qualcosa del genere Ok, apparentemente qui non c'è nessuno Siamo rimasti otto vivi? Madonna Cioè sono veramente spietati qui su Mindplex Purtroppo io da veramente tantissimo tempo che non faccio Younger Games E quindi sono completamente fuori forma Ma proprio in una maniera pazzesca Allora la throwing TNT Magari me la tengo qui di fianco Finché non avrò a disposizione delle frecce Purtroppo non posso nemmeno craftarle Cioè gli stick ce li ho però non ho il resto E vediamo se Ah no, ok No, è un pot Pensavo fosse un player Niente, comunque Vediamo se riusciamo a trovare delle piume E della selce Magari ci facciamo qualche freccia O se troviamo direttamente Le frecce già fatte Tanto meglio insomma Qui non c'è nulla Cioè mi stai dicendo che questo posto è completamente inutile Ok Va bene Strano Molto strano Vediamo se magari qui dietro qualcosa c'è Ah è vero, c'è la barriera È vero Non mi ero ricordato che Uh, piuma L'ho chiamata Non mi ero ricordato che Qui su Mineplex La barriera si restringe Al punto che a un certo punto Tipo se tu ti avvicini troppo Comincia a esplodere A fare cose Quindi se non mi do una mossa Finirò soffocato dalla barriera Che è fin troppo vicina Però Però Eh Via 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 Raga Eh Devo scappare Tantissimo Devo scappare Devo scappare Devo scappare Scappa 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 Per dio scappa Ok Ok Un Ender Dragon What? Ma Ma perché? Perché sta cosa? Cioè Ok C'è un Ender Dragon A caso E la cosa Mi preoccupa non poco Non so se È ostile Penso di sì Però Oh Allora Io voglio provare a fare questa cosa Di qui No ok Qua non c'è nulla Voglio vedere Perché lì c'è un beacon Quindi forse Mi chiamano sul telefono Ok raga Qua c'è sicuramente qualcosa Però Ho come l'impressione Che arriverà Qualcuno Yes Avete visto La Supply drop Come Come ci arrivo lì Come cacchio ci arrivo Raga Devo Prendere e scappare Prendi e scappa Via Eh lo sapevo Aspetta 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 Vediamo se riusciamo a fare la cosa tattica No ho fatto la cazzata Ok Ok forse sa che Se vieni Cioè Ok Io dal basso posso colpirlo meglio Yes 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 Mamma mia Mamma mia che kill Raga È un bordello Ve l'ho detto Cioè mi stanno chiamando al telefono Proprio perché Dovrei uscire in questo momento In teoria Oh madonna Oh madonna Sharp nessuno Eh però non so quanto Quanto sia utile Dai Dai scappa Raga sono Non posso correre Non posso Non posso correre Ma che cazzo Ok adesso si Wow Wow mamma mia Bellissimo Sta andando dannatamente bene Ed è strano perché Ve l'ho detto Cioè non gioco agli Hunger Games Da un botto E raga non mi fa sprintare correttamente Cioè sta lagando veramente tutto tantissimo E il che Non è Ah ma vedete che roba Dai ma è indecente Ok Forza Quindi manca De Gago Ippo Quindi un ippopotamo Poi ci sono io E poi c'è tutti i minecraft Ok qui sono Rischio di botto Un'imboscata Di botto Di brutto Ma che cacchio sto dicendo Raga sono Tipo Raga è un problema Se tipo sono circondato Dalle barriere Ma proprio In una maniera incredibile Cioè tipo Qui la barriera Lì la barriera E là in fondo Credo di averla vista pure Se non riesco a scalare Questa montagna È la fine Come dice il buon Matt È la fine Perché Finirò schiacciato Dalla Dalla barriera Non posso rompere i blocchi È la fine Ok è stata una bella partita È stato divertente Ti prego Non voglio morire Non voglio morire Non in questo modo Non in questo modo Dai Dai Ci deve essere pure un modo Per salire questa montagna Raga sto Facendo tipo Dei trick Incredibili Di parkour Yes Yes Mi sono salvato In una maniera Pazzesca Tipo ninja Non quello che gioca Fortnite Però Vabbè ci siamo capiti No? Perché siamo in una mappa Giapponese Quindi tipo ninja Ok Siamo al centro raga Occhio È morto Il Tutti Minecraft È rimasto soltanto Ippo Eccolo Raga sta Ma quanto Quanto cacchio lagga Ma lo vedi Ma No Eh ma così non si può Eh Io lo attacco Io lo attacco Raga però Ma che cacchio Ok raga Secondo Mi va benissimo Però Lagava veramente troppo Cioè gg Ippo Veramente Però Ez Effettivamente Cioè raga Boh Sono abbastanza basito Però spero che questo video vi sia piaciuto Ci vediamo in un prossimo video raga Devo scappare tantissimo Eh No Non lo so Che cacchio sto dicendo Ci vediamo in un prossimo video raga I'll see you next time I'll see you next time I'll see you next time Grazie a tutti.